Il modo più facile per guadagnare in borsa, ma anche il più difficile, è ragionare in maniera semplice. Partiamo subito dalle cose complesse. Perché il più difficile? Perché tutti noi siamo naturalmente portati a ragionare in maniera complessa, soprattutto siamo portati ad immaginarci un futuro che non esiste, quindi a vederlo, ad immaginare qualcosa che poi alla fine non è detto che si realizzi così come lo avevamo immaginato. Perché invece è facile, perché oggi ti presenterò un setup davvero basico. Lasciamo stare per una volta totalmente da parte tutti quei nomi difficili come FWG o Point of Control, tutte queste cose che rendono le cose complesse. Andiamo veramente sul base e vediamo un setup semplice, ma ti assicuro efficace, che d'ora in poi vedrai in tutti i grafici e che ti permetterà di guadagnare da subito senza capacità specifiche. Vediamolo subito senza girarci tanto attorno. Si chiama il setup della barra ignorata. Poniamo il caso che tu ti trovi con un trend positivo, vedremo dopo anche come individuare un trend positivo o negativo che sia, ovviamente ogni setup va sempre visto poi in maniera anche speculare. Ad un certo punto tu noterai una barra, una candela all'opposto, di segno opposto. Quindi se siamo in un trend positivo vedrai una candela negativa. Al superamento della soglia superiore di questa candela, a questo punto quello sarà il nostro setup d'ingresso. A patto che ovviamente abbiamo prima identificato un trend in maniera chiara e netta. Esistono poi delle varianti anche di questo setup. Poniamo il caso che ci sia una media mobile che passa magari nei pressi o anche un po' più vicino, magari due medie mobili con le quali noi ci siamo aiutati per individuare questo famoso trend. E poniamo il caso che ad esempio questa barra sia anche abbastanza lunga, abbastanza estesa, ma si sia fermata a livello di questa media. Ebbene, magari facciamo anche un po' più estesa quest'altra barra, ecco questo rimane comunque un punto di ingresso. Questo è davvero un ottimo punto di ingresso a mercato. Ti assicuro che tu potrai vedere d'ora in poi questo tipo di pattern ovunque. Questo ad esempio cos'è? Unicredit ha candele settimanali. Guarda qua come abbiamo una candela ignorata qua, una candela ignorata qua, ma anche questa diciamo è una candela ignorata di quelle più estesa che è arrivata a lambire la media mobile, poi al superamento che avviene qui. Questo è un interessante punto di ingresso. A patto che, come detto però, prima si è riuscito ad individuare in maniera corretta il trend di fondo. Quindi andiamo a vedere subito la nostra famosa checklist. Punto 1. individuare un trend di fondo. Punto 2. Setup di ingresso. Punto 3. Uscita. Che può essere in gain oppure ovviamente il loss. Non è che si guadagna per forza sempre. Questo è logico. Però individuiamo un trend di fondo. Allora tu puoi, se puoi mettere tranquillamente due medie mobili, oppure puoi farti aiutare da strumenti come ad esempio il Trendy Cater, che sono queste barrettine che vedi qua sotto. Quindi ci sono davvero tantissimi modi per individuare un trend primario di fondo e poi ogni volta che d'ora in poi vedrai questo setup di barre ignorate, candele ignorate, che possono essere anche più di una ad esempio, al superamento avrai il tuo setup di ingresso. Guardate ad esempio oggi, che è il 16 di settembre, oggi c'è stato un exploit pazzesco di Unipol sui 5 minuti. Guardate ad esempio quante candele ignorate si potevano trovare lungo tutta la strada ed erano tutti dei potenziali punti di ingresso di un trend che prima avevamo individuato con ad esempio il nostro Trendy Cater verde oppure con una serie di medie mobili. Quindi davvero facciamo le cose in maniera semplice. Ovviamente, come abbiamo detto, ogni setup ha sempre la sua parte, diciamo, di trend positivo oppure può essere individuato in maniera speculare in un trend negativo. Guardiamo ad esempio questo trend down sempre di Unipol a 5 minuti e vediamo anche qui come troviamo tantissimi di queste candele ignorate, avendo prima ovviamente individuato in maniera efficace un trend a questo punto discendente. Bene, se questo video ti è piaciuto metti un like e come sempre ci vediamo al prossimo video sul canale del Circo degli Investitori.